Ciao a tutti, in questi giorni sto testando questa soundbar di Creative, la Stage 2, che comprende anche un subwoofer separato connesso tramite cavo. Tutto questo costa meno di 100 euro e posso assicurarvi che il sonoro che produce è di ottimo livello, superiore anche ad alcune soundbar che paghi oltre 200 euro. Possiamo connetterla tramite HDMI ARC, cavo ottico oppure il jack. Troviamo Bluetooth 5.0 e c'è anche una presa USB con funzione di media player. Volevo condividerla con voi in anteprima anticipando la recensione completa che pubblicherò prossimamente. Ve la consiglio se volete spendere meno di 100 euro per un sistema con subwoofer a 2.1 canali e con prestazioni che superano il livello di questa fascia di prezzo. Clicca sui tre pallini e apri la descrizione per trovare il link all'offerta Amazon per questa soundbar, che attualmente gode anche di un coupon sconto applicabile direttamente al checkout.